Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto una challenge, una challenge veramente difficile per me, perché è con la memoria. Cioè io ho sempre avuto memoria, ma negli ultimi tempi la sto perdendo. Di che cosa tratta questa challenge? Che casino. Allora, ho due minuti di tempo per dire il maggior numero di libri che ho in libreria, ovviamente senza sbirciare. Non riesco a sbirciare, perché anche guardando non riesco a leggere i titoli. Quindi, quando l'avevo fatta due anni e mezzo fa, avevo fatto, cioè avevo detto, sembra 50 o 51 libri. Ora, io mentre farò la challenge non saprò poi quanti ne avrò detti, li conterò in editing. E se riesco a superare il mio record dell'anno scorso, siamo tutti felici. Altrimenti, che vergogna. Allora, timer per prima cosa. Io sono già agitato, già fa caldo. Per questa challenge mi fa agitare ancora di più. Mi vedo particolarmente arancione. Sarà la maglietta che fa contrasto. Vabbè, è il quinto video che registro di seguito. Non ho più voce. Allora, il timer è stato impostato, vedete, due minuti. Lo vedete? Non lo so. Io non devo guardare il timer mentre faccio la challenge, se no mi agito. Quindi adesso la faccio partire e poi basta. Tre, due, uno, via. Allora, Harry Potter e la vetra di Frosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Axe Caban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l'ordine della finice, Harry Potter e il prigioniero mezzosangue, Harry Potter e i doni della morte. Poi abbiamo il Trono di Ghiaccio, il Corona dei... Vabbè, Trono of Clast, il Corona del Pitney, Hero of Fire, Queen of Shadows, Emperor of Storm, Tower of Dawn, The Ascens' Blade, Akotar, Akomaf, Akotar, Akomaf... Akorto... Akowar e Akofas, che casino. Poi abbiamo la teologia delle gemme, quindi Red, Blue, Green, abbiamo Legend, Prodigy e Champion. Abbiamo Net School, Net School Legacy, Net School Fracture, Net School Resistance, Net School Handgame. The Secret Fire, The Secret City abbiamo la trilogia dei sogni quindi abbiamo il primo, il secondo e il terzo non mi ricordo i nomi, sono tre comunque poi ho assolutamente da dirvi vabbè mi viene da dire i fidanzati dell'inverno poi c'è ecco, lo sapevo che la mia memoria mi gioca già a brutti scherzi Regina Rossa, Spalenti, Vetro, Cabbie del Re Warstorm poi abbiamo che vergogna poi abbiamo non mi viene in mente niente troppo difficile questa challenge per me niente, è più forte di me The Secret Fire, The Secret City li ho già detti, non mi ricordo più beh Il Codice di Da Vinci, Inferno Angeli e Demoni, Il Simbolo Perduto La Verità Sua di Chiaberta Scoparsi di Stephanie Mayer Il Libro di Baltimore Cioè, ho 300 e passa libri Il Trono di Spade, Libro 1, Libro 2, Libro 3, Libro 4, Libro 5 Poi abbiamo posso farcela non posso farcela in quest'ansia dei minuti mi sta devastando non riesco dai, qualcos'altro cos'altro? ragazzi sto spaventando sto spaventando sto spaventando sto spaventando sto spaventando niente tanto spaventando mi sono spaventato tantissimo è stata una challenge pessima io in questo momento potrei benissimo cancellare questo video e rifarla però andrei conto i miei principi e non sarei sincero con voi quindi penso che la pubblicherò allora adesso io non so quanti libri ho detto me ne stanno già venendo in mente 20.000 adesso tipo la saga di Multiversum per esempio che non ho detto in challenge però vabbè io in editing conterò i libri che ho detto spero di avvicinarmi quanto più possibile a 51 se no veramente che figura pessima non lo carico se no raggiungo 50 non lo carico sto scherzando è veramente difficile per voi può sembrare una stupidata l'ho pensato anch'io quando ho detto ma se questa challenge ma da fare è veramente veramente tosta vabbè spero che quantomeno vi siate divertiti a vedere la mia faccia che esprimeva disagio a ogni frazione di secondo e nulla questo è stato un video brevissimo ma sono abbastanza divertito a farlo a dire che si e nulla noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi